Ciao ragazzi, oggi ci troviamo ad Ascoli e stiamo andando a una manifestazione che si chiama Spring Food perché c'è uno dei campioncini di street food da tutta Italia. Stiamo assaggiando il panino alla carne di bufalo che è buonissimo, c'è la melanzana, c'è il formaggio, c'è la salsa chimichurri, è spettacolare. Guardate la carne quanto è rosa, buonissimo, veramente, eccezionale. Andiamo a provare l'oliva scolana, siamo ad Ascoli e merita di essere assaggiata l'oliva scolana. Le fate voi signora? Sì, sì. La facciamo noi, sì. Vi posso chiedere come le fate, che ci mettete dentro? Il maiale, il manzo e il panino. Poi dopo fate l'impanatura. Questo che è? Allora, questo qua è al ragù, questo qua invece è alla parmigiana. Al ragù? Al ragù. Amici, abbiamo preso allora le olive scolane, eccole qua, abbiamo preso l'arancino al ragù, giusto? Adesso lo assaggiamo e dopo vi diciamo com'è, anzi, lo assaggio subito. L'oliva. Una delle migliori olive all'ascolana che ho mangiato. E' una palla. E' ottimo. Dovete sapere che Ascoli è costruita in maggior parte da travertino, infatti molte delle case che si affacciano davanti a noi sono veramente belle e caratteristiche. Venite a visitare Ascoli perché a distanza di 28 km potete trovare anche il mare, quindi Porto d'Ascoli, San Benedetto, Grotto a Mare, che sono delle località balneari stupende. Allora abbiamo preso le bombette pugliesi, che in pratica è carne di capocollo con dentro del formaggio. Quindi andiamo a assaggiarle, vediamo come sono, non l'ho mai mangiato. Volevo fare il video allo stand ma il proprietario mi ha detto di no, quindi... Adesso facciamo solo vedere quello che abbiamo preso. Buone su buono. Anche la carne è buona. C'è una spezia particolare che non riesco a capire che cos'è. Sai, almeno io. Ve le consigliamo, sono buonissime. Prendendo la confezione c'erano i teralli. Comunque vale la pena venire in questa manifestazione. Questa è la seconda edizione dello Spring Food di Ascoli Piceno. Organizzata da questo Tielo Stretto, che è un brand che organizza queste manifestazioni in giro per località. Ci stanno diversi stand dove acquistare cibo e assaggiare. Noi giustamente non è che possiamo assaggiare tutti perché dopo scoppi. Alla fine siamo in due, ci dividiamo le cose, ma mamma mia. Infatti ci fermiamo a questo e dopo facciamo un giro ad Ascoli. Siamo in Piazza del Popolo, una delle piazze più belle d'Italia. Allora amici, il nostro giro per Ascoli Piceno è finito. Seguite gli altri video che abbiamo caricato sul canale, iscrivetevi soprattutto e attivate la campanella per essere avvisati quando caricheremo nuovi video. A presto, ciao!